ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch di duplicazione ragazzi si duplicazione cosa andremo a duplicare con questo glitch tutti i veicoli pegasus indistintamente che sia idra che sia qualunque tipo di veicolo pegasus si potrà duplicare con questo glitch per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico che sarà disponibile a farsi uccidere dopo di che il nostro amico cosa farà ci invierà un duello ci inviterà ad un duello accettate il duello molto in fretta ragazzi perché altrimenti non funzionerà il glitch e come per magia il nostro amico respawnerà con il carro armato fatto questo cosa bisognerà fare uscire dal duello lui rimarrà con il suo carro e noi rimarremo con il nostro carro e il carro si sarà duplicato e così lo potrete fare tutte le volte che volete scambiare o comunque donare un carro armato a tutta la sessione se vi va tipo che ne so fate una sessione stile battlefield e niente ragazzi il glitch sostanzialmente è questo funziona con tutti i cazzo di veicoli della pegasus che ci sono non so se funziona col camion col liberator con ste cazzo di varie però con i veicoli pegasus che hanno armi funziona garantito che funziona ragazzi e niente come vi ho già detto il glitch è questo vi lascio al resto del video un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti iscriviti al canale iscriviti al canale